Dicennovessima Domenica del Tempo Ordinario Nell'odierno brano tratto dal Vangelo di Matteo c'è l'episodio della tempesta sedata. Ora, dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù va sul monte tutto solo a pregare, ma prima invita i suoi, gli apostoli, a precederlo sull'altra riva con la barca. E questo può significare qualcosa anche in riferimento alle comunità del tempo di Matteo, comunità cristiane forse in difficoltà nella fede, forse in difficoltà in questo passaggio missionario che Gesù chiedeva ai suoi di passare all'altra riva. Non c'era stata pausa in quel giorno di lavoro missionario per Gesù. E alla conclusione di una giornata intensa chiede ai suoi di passare all'altra riva. Essi lo fanno, ma senza Gesù con loro sono intimoriti. Sono pieni di dubbi. Ed è questo il senso della tempesta che si scatena sul lago e che permette loro di non vedere, di non riconoscere Gesù che si avvicina. Gesù che da un lato dice di precederli sull'altra riva, dall'altro è pronto lì ad accompagnarli, ma loro non lo riconoscono, non se ne accorgono. Lo vedono come un fantasma. Quando lo riconoscono, allora Pietro sembra di riconoscerlo. Pietro dice, se sei tu, Signore, lascia che io venga a te sulle acque. E il Signore gli dice, vieni, Pietro. E Pietro inizia a camminare sulle acque, ma poi la paura, il dubbio, la mancanza di fede. Lo portano ad annaspare e teme per la sua vita. Allora grida e il Signore tende la mano e lo salva. Quando Gesù sale sulla barca, allora c'è il riconoscimento pieno della sua signoria. E prostratisi lo riconoscono come Signore. Dicevo all'inizio, è un po' l'immagine delle comunità cristiane, forse del tempo dell'Apostolo, di Matteo, che avevano qualche difficoltà a riconoscere il Signore risorto. Quel Signore che è il termine, curios, usato da Pietro quando si rivolge a lui in questo brano del Vangelo. Un Signore risorto, dunque, che è presente con i Suoi, che non ha cessato di accompagnarli nei momenti anche difficili della testimonianza, della missione, appunto. Ma essi non lo vedono, non lo riconoscono. Forse è la condizione che viviamo anche noi. Forse la nostra titubanza nella missione, a cui il Papa ci ha richiamato invece con freschezza e con vigore nell'esortazione Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. Forse questa stanchezza, questa incapacità, riconoscere il Signore presente in mezzo a noi, come colui che sostiene, che porta, che guida l'attività missionaria della Chiesa, può farci comprendere a che cosa siamo chiamati in un momento che può apparire di tempesta, sì. Tempesta del dubbio, tempesta della tiepidezza, tempesta degli attacchi anche alla fede e non soltanto quelli delle persecuzioni così evidenti in queste settimane in tanti paesi contro i cristiani. Vengono cancellati i segni della presenza cristiana, vengono distrutte le Chiese, vengono minacciati di morte, lasciati partire senza i propri beni dalle loro case. È un momento di tempesta, ma la tempesta anche di una crisi, forse, di fede per molti, che sembra quasi un interrogativo. Signore, dove sei? E nel momento della tempesta, nel Vangelo, Gesù appare. Sembra un fantasma. In realtà è il risorto. E colui, il Vangelo è un racconto che avviene ben prima della risurrezione, ma per noi oggi possiamo vedere in queste immagini di Gesù che cammina sulle acque il risorto che entra nelle nostre storie così difficili, così sofferte, così dubbiose, appunto, per donare un nuovo vigore di fede. Pietro, perché hai dubitato? Uomo di poca fede. E questo sembra un monito per tutti noi, un interrogativo e un monito. Perché hai dubitato? Perché sei così debole nella fede? Ci sono nostri fratelli e sorelle nella fede che sono oggi ben più forti di noi, perché là dove rischiano la vita per il Vangelo, per Gesù Cristo, testimoniano in questo modo che la loro fede è ancora vigorosa. Accettano il rischio della morte pur di riconoscere il Signore Gesù come il Signore della loro vita. Per questo possiamo domandarci che ne è stato del nostro battesimo, che ne è della nostra fede. La domanda di Gesù, perché hai dubitato? Uomo di poca fede, ci coinvolge, ci riguarda pieno. Del resto, il non riconoscere Gesù che compare o il vederlo come un fantasma è forse una tentazione, un rischio di sempre nella visione di Dio, nel modo di interpretare Dio. È quello che accade anche al profeta Elia. Nella prima lettura, tratta dal libro dei Re, dal primo libro dei Re, dove Elia, che fugge dalla regina Gesabelle, peraltro dopo aver sterminato i profeti di Baal, quindi aver compiuto un atto che è certamente di violenza, anche se fatto per riconoscere l'unico Dio, Elia in qualche modo va peregrinando per conoscere davvero il volto di Dio e desidera incontrarlo e lo incontrerà sull'Oreb, il Sinai dell'antica tradizione israelitica. Ma non è quello che lui si aspetta, lo cerca nel terremoto, nel tuono, nel fulmine, nella tempesta. Dio invece si fa presente in una brezza leggera. È allora che il profeta si copre il volto, perché è noto che non si può stare alla presenza di Dio senza rischiare la morte e Dio passa e si fa conoscere come il Dio che dimora nella brezza, il Dio che discretamente agisce nella storia, la sua potenza è fatta di delicatezza, di tenerezza anche, di attenzione ai bisogni dell'uomo, di misericordia. Forse questo Elia non l'aveva compreso. Ma è un problema forse per tutti noi che abbiamo un'immagine di Dio fatta talvolta a nostra immagine e somiglianza piuttosto che essere noi a immagine e somiglianza di Dio. E vorremmo farci anche un Gesù a nostra misura. Quando allora ci appare nelle pieghe anche difficili dei nostri passaggi, della nostra testimonianza cristiana così sofferta, così debole, stentiamo a riconoscerlo perché forse abbiamo una certa immagine del Signore Gesù. ce lo facciamo un po' a nostra misura, a nostro uso e consumo. Ritrovare allora il vero volto di Dio, il vero volto di Cristo che è il volto della misericordia, il volto della salvezza, il volto di un Dio che è vicino all'uomo che se dice è passata e l'altra arriva in realtà già cammina con noi e opera e agisce con efficacia nelle nostre vite, nei nostri gesti, nelle nostre parole. Ecco, crederlo è ciò che ci riguarda, ci coinvolge, ci compete. ed è la sofferenza di Paolo quella di avvertire la non fede del suo popolo, soffrire perché altri non credono, soprattutto per Paolo nel brano tratto dalle lettere ai romani e la mancanza di fede degli israeliti, dei suoi connazionali che lo turba, che lo fa soffrire, perché in fondo essi sono davvero gli eredi della promessa e quello che Paolo dice degli ebrei è tutto vero, avessi aspettata la dotazione a figli, i profeti, i patriarchi, il culto, ma soprattutto di generare Cristo secondo la carne. Per loro dunque Paolo vorrebbe diventare addirittura escluso dalla salvezza anatema, come lui dice, separato, purché i suoi invece si avvicinino a Cristo e lo riconoscano come Signore. Dunque la sofferenza di vedere poca fede in mezzo a noi dovrebbe essere anche un'ansia di ciascuno, un'ansia missionaria e soprattutto prima di lamentarsi e di soffrire per la poca fede degli altri dovremmo avere il coraggio di riconoscere un po' la nostra debolezza nella fede. Questo riconoscere se stessi tutte le difficoltà, le debolezze, le fragilità è forse il primo passo che compie per permettere al Signore Gesù di mostrarsi il Signore nella nostra vita e quando abbiamo coscienza delle nostre debolezze che egli può manifestare la sua forza come ricorda sempre Paolo in un altro passo. Dunque la tempesta della nostra vita è la tempesta di questo tempo della storia così evidente qualche volta da scoraggiarci da lasciarci senza respiro senza energie può essere invece il luogo dove Dio passa dove Gesù entra come colui che svela il cuore di Dio la misericordia il disegno di salvezza e che dice ciascuno di noi non temere come Pietro non avere paura questa parola non temere è la parola del risorto che ha vinto la morte che ha vinto dunque la paura e che ci accompagna in ogni momento dell'esistenza che ha vinto Grazie a tutti. Grazie a tutti.